Saverio Montingelli, in quel di Parma, Alfredo, noi siamo qua, al caldo, sta seguendo l'evoluzione complessa di quanto succede a Parma. Ti vedo con ospiti, dacci il punto della situazione in un minuto, Saverio. Sì, allora in un minuto ti dico che i soldi non ci sono, non si sono visti e non si sa se si vedranno. Parma è molto, ma molto pessimista, ha paura che tutto possa crollare, si teme che ci sia il fallimento. Però c'è chi ha fiducia nel futuro come il presidente di un club di tifosi, il rappresentante di un club di tifosi, Gianluca Camorani, che è qui alla mia sinistra, poi alla mia destra il collega di Repubblica Francesco Nani. Non so se abbiamo il tempo per fare una domanda o se vi devo restituire subito la linea. No, no, vai, vai, dacci un parere dei tuoi ospiti al volo, Saverio, prima di andare in pubblicità, rapidamente. Sì, benissimo, benissimo. Allora, partirei da Gianluca Camorani, che ha sentito manenti nel pomeriggio. Che cosa ha detto il presidente del Parma? Ovviamente di rimanere tranquilli che i soldi ci sono, sono arrivati. In questo momento ci sono dei problemi tecnici a trasferirli da un determinato conto corrente, dove però esiste già il versamento al conto corrente dei giocatori. Tutto qui? Insomma, direi che abbastanza, no? Se è vero, naturalmente, perché è chiaro che tutte le notizie vanno sempre... Dico tutto qui nel senso che dovrebbe essere un'operazione più semplice? Beh, insomma, adesso come adesso, il trasferimento di denaro, soprattutto se proveniente dall'estero e soprattutto se proveniente da, diciamo, fonti che non sono esattamente rintracciabili, non è così semplice. Ci sono delle norme italiane ed europee che rendono piuttosto arduo questo tipo di passaggio di denaro. Questa tesi, diciamo così, delle difficoltà tecniche, rende un po' oscura tutta la vicenda. Chi c'è dietro? Che cosa c'è sotto? Ci interroghiamo tutti su questo. Ma la tappa odierna di questi giorni dimanenti va ricordato che è solo l'ultima sera di una vicenda che si trascina da maggio. Siamo nella città di Verdi, potremmo dire che quello che sta accadendo assomiglia un po' a melodramma verdiano. Il 19 maggio il Parma festeggiava l'ingresso in Europa League. Da lì in poi ci sono manifestato una serie di problemi finanziari che hanno portato il Presidente Guerra a dover cercare in tutta fretta degli acquirenti. E fino ad oggi questi acquirenti non hanno garantito quella solidità economica in grado di acquistare in maniera definitiva la società. Quindi siamo ancora nel campo delle ipotesi e delle supposizioni. Benissimo. Per il momento qui dal gelo di Parma è tutto. Benissimo. Grazie Saverio perché ci hai dato quello che è lo stato dell'opera. Purtroppo ancora piange il telefono e in inglese, nel suo perfetto inglese, Still no payment received by Parma according to RaiSport Web. Cioè l'abbiamo detto noi, l'ha detto Saverio Montingelli, il nostro inviato. Speriamo che questo cro, questa letterina, CRO, che significa bonifico, andato a buon fine, arrivi presto. Pubblicità, poi London Calling. Andiamo a Londra per parlare di razzismo. Andremo dal nostro inviato tra un minuto, via zona 11.